Siamo a Smau, questa è la terza volta, siamo stati in Toscana e siamo stati in Veneto. Questa volta ci siamo non soltanto per premiare i campioni di riuso, ma ci siamo come comunità Agirepor. Agirepor è un progetto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, è il Dipartimento che gestisce le politiche dei fondi strutturali ormai da circa 15 anni. La community Agirepor, sono circa 100 amministrazioni che hanno sviluppato dal 2006 a questa parte progetti di cooperazione per lo sviluppo di soluzioni innovative. Ci è sembrato che Smau fosse un'occasione da non perdere, l'abbiamo visto per due volte in Veneto e in Toscana e abbiamo voluto essere presenti a Milano. Oggi abbiamo qui presenti 40 sindaci, 40 amministrazioni locali che hanno innovato lavorando assieme. L'anno prossimo partirà la nuova programmazione che ci accompagnerà con i fondi europei fino al 2020-2022. Vorremmo che questa community diventasse un polo di progettazione per soluzioni innovative in cui la tecnologia accompagni i processi di organizzazione delle amministrazioni per farle diventare realmente al servizio dei cittadini, con i funzionari che gestiscano soluzioni informatiche di eccellenza, progettate all'interno di ambiti privati attraverso linee di partenariato certificate col sistema privato. Smau è un distributore eccezionale di innovazione della filiera delle piccole e medie imprese italiane dove meglio far conoscere che 100 amministrazioni innovative esprimono domanda per partner che sul territorio siano presenti e che lo facciano collaborando con l'amministrazione e non individuandola unicamente come un cliente a cui fornire un servizio. Sviluppare software in riuso, così come nello slogan dei campioni in riuso, che è il premio che Smau ha conferito a ben due dei gemellaggi che abbiamo in corso. Bene, lavorare sul software in riuso significa fondamentalmente essere in grado di pensare al riuso come se fosse un bene comune, progettando sviluppi, progettando sistemi di acquisto che efficientizzano anche, che riducono i costi, quindi efficientizzano queste soluzioni al momento in cui si acquistano e in questo Smau ha dimostrato di essere essa stessa campione di riuso e noi abbiamo deciso per questo di esserci e sperabilmente nei prossimi mesi lavoreremo perché Smau sia presente in maniera più forte di quanto lo è adesso nel mezzogiorno in tutti i capoluoghi delle regioni obiettivo-convergenza. Bari, Napoli, Bari c'è da sette anni, vorremmo che fosse presente in maniera più efficiente, più efficace a Napoli, a Palermo e in Sicilia e in Calabria, a Catanzaro e a Cosenzi. Lavoriamo con Smau perché questo accada. Grazie.